Musica Ben ritrovati, oggi risponderò alla domanda di una mamma. Buongiorno dottoressa, sono Rosalba, mia figlia gioca a pallavolo da quest'anno, ha 12 anni e ha l'allenamento alle ore 16. Dopo l'allenamento di pallavolo va a fare ripetizioni di matematica e lamenta forte senso di fame. Le faccio portare da un po' di tempo una bevanda energizzante, ma dopo 3 ore torna a casa direttamente per cena molto affamata e quindi mentre io preparo la cena lei mangia quello che trova per poi sedersi e cenare con noi. Come posso risolvere questo problema? Ciao Rosalba, in quello che mi hai detto trovo degli errori, soprattutto l'utilizzo di uno sport drink. Gli sport drink sono assolutamente sconsigliati poiché contengono troppi zuccheri. Pensa infatti che una bottiglia da 500 ml contiene circa 30 grammi di zucchero. Ti consiglio assolutamente di sostituire lo sport drink con dell'acqua che tua figlia potrà utilizzare durante e dopo l'allenamento. Nel tragitto invece dall'allenamento alla ripetizione di matematica potrà mangiare una merenda solida che potrai prepararle. Successivamente vedrai che arriverà a cena con un senso di sazietà decisamente maggiore e potrà sedersi e cenare assieme a voi. Spero di essere stata chiara, ti ringrazio. Per eventuali informazioni potete contattarci alla mail